ciao a tutti da raffaele e benvenuti ad un nuovo video una nuova recensione pronta per voi allora stasera sto per andare a vedere avengers and game per la terza volta in realtà questa questa volta è uscita nelle sale la nuova versione diciamo così per il giorno dell'indipendenza è uscita negli stati uniti uscita anche in italia per fortuna ed è una versione ampliata ci sono circa credo sette minuti di scene aggiunte e a quanto pare da quello che si dice c'è anche la scena post credit quindi nuove scene gustose e interessanti da da vedere ovviamente poi la recensione sarà proprio principalmente su queste scene come si vanno a inserire nel contesto generale quindi se quanto ne ha guadagnato di più il film per l'occasione sfoggio la questa fantastica i love you 3000 di maglietta che ho preso da qr t quindi sono pronto spero che al cinema come annunciato mi diano anche in omaggio il poster del della versione in aggiunta e vediamo credo che comunque oltre che per appunto l'aggiunta per il successo che ha avuto questo film serve innanzitutto come ulteriore traino a spider man far from home che che però diciamo da quello che ho letto un po in giro negli ultimi giorni non dovrebbe aver bisogno di questo e di questa diciamo così volata che viene lanciata da da in game perché l'hype per questo spider man sta salendo di giorno in in quando ci sono diverse anticipazioni e commenti entusiasti di chi lo ha già visto in anteprima e per quanto riguarda in game ripeto oltre che per cavalcare continuare a cavalcare il successo far vedere questi minuti aggiuntivi che magari vanno a coprire qualcuna della mente dei fan magari c'è la scena in cui nasce il professor hulk fra fra l'accordo di di bruce banner e di hulk vedremo ma secondo me la cosa principale che è stata fatta con questa con questo ritorno al cinema oltre che soddisfare tanti fan che sicuramente avrebbero voluto rivederlo nuovamente al cinema come come sottoscritto ma anche per cercare di battere secondo me il record di incassi di avatar and game è arrivato al secondo a poco da avatar adesso con questa uscita nuova nuova nel cinema cerca di avere ulteriori spettatori per sfondare il record e quindi diventare film più visto al cinema della storia vedremo 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 se innanzitutto se avverrà e poi se è stata una buona idea riportarlo al cinema con queste scene aggiuntive per questo vi rimando al dopo il trailer per la post recensione ciao e a dopo alcuni se ne vanno noi no noi no ciao a tutti eccomi di ritorno dal cinema ormai a notte fonda diciamo allora e come vi ho detto sono da rivedere per la terza volta avengers in game al cinema questa volta era la re release come viene stata definita che è tornata nelle sale prima in america adesso qui da noi di questo appunto questo fantastico film è il film è stato era stato annunciato come ho detto prima con tanti con alcuni minuti alcune scene in più e la scena post credit almeno questo era quello che ho capito si era capito all'inizio devo dire onestamente è stata secondo me un'operazione commerciale che non mi ha non mi ha convinto non mi è non mi è piaciuta tanto devo dire perché eh allora innanzitutto in realtà il film è identico eh non è stato modificato e tutto il film è perfettamente uguale a quello che abbiamo già visto eh da aprile in poi eh all'inizio c'è solo Anthony Russo uno dei due registi che eh augura una buona visione del film e e dice di non muoversi da da dalla poltrona alla fine del film perché dopo i titoli di coda c'è una sorpresa finale quindi diciamo la nuova release è semplicemente tutto quello che c'è dopo i titoli di coda infatti il film bello comunque anche la terza visione devo dire si apprezza è sempre bello è sempre piacevole mi sono divertito e anche eh anche in questo caso è emozionato in molte scene e i tre le tre ore non si si colgono proprio scorre liscio il film anche alla terza visione e e alla fine dopo tutti i titoli di coda dopo il martello che sia che si sente eh e la la scritta Marvel 10 parte un tributo a Stanley eh c'è c'è un breve eh un filmato di alcuni minuti dedicato a Stanley e dopodiché ricompare il regista e ringrazia i fan per l'affetto per averlo seguito e spiega che il film eh per il film hanno dovuto fare delle scelte c'erano tante altre scene girate nonostante durasse già tre ore e quindi poteva durare ancora di più quindi hanno dovuto fare delle scelte in fase di montaggio e fanno vedere dice questa è una delle scene che purtroppo abbiamo dovuto escludere quindi dopo di questo fa vedere un'altra scena una scena tagliata ovviamente per non spoilerarvi non vi dirò eh che che scena si se volete andare a vedere la cosa importante che comunque non è una scena di cui avevo né letto né visto niente su internet quindi è una cosa totalmente inedita seppur diciamo di di un paio di minuti e basta dopo eh questa scena c'è infine eh non so se eh non la so definire bene se non saprei se è una scena post credit che era previsto in eh in Avengers Endgame oppure la scena iniziale di di Spider-Man Far From Home eh perché appunto eh la scena in cui si annuncia eh il film in cui il film di Spider-Man non lo film di Spider-Man in cui si vede eh per la prima volta misterio eh non lo so vedremo quando esce nelle sale fra soli quattro giorni eh quando uscirà Spider-Man Far From Home andremo a capire se questa scena che abbiamo visto eh è l'inizio del film oppure una post credit pensata inizialmente per Endgame quindi devo dire eh diciamo sì per i grandi fan comunque una una cosa da da vedere da da partecipare eh però mh se ne può far benissimo a meno non eh se fosse stato il film modificato allora era una cosa da vedere secondo me anche per altri che non sono fan però il film identico credo che poi alla fine questa scelta sia quella che dicevo all'inizio il film è perfettamente identico proprio per poter portare ulteriormente in alto eh l'incasso di Avengers Game così da superare eventualmente Avatar vedremo se è una scelta che che ripaga per per battere questo questo record eh veniva anche eh pubblicizzato che alla fine del che alla fine del film o comunque diciamo eh acquistando il biglietto del film si aveva anche eh le un poster speciale in edizione speciale di appunto proprio di Avengers Endgame con il guanto di Thanos eh in realtà diciamo il poster è questo cartoncino che comunque è molto carino molto ben fatto però non è un poster è è un A5 quindi eh diciamo bello questo sarà sicuramente comunque incorniciato e messo qualche parte in questa stanza però non è un poster questo è quanto eh quindi non do un voto in questo caso perché non avrei eh Avengers meglio ho dato tanti tanti di quei voti eh allora sarà questo è il film dell'anno ormai perché eh diciamo eh se ne se ne è parlato in tutte le salse e in tutte le occasioni eh è stato sempre protagonista per questo io magari mi sentirei di eh desiderare sponsorizzare una una cosa un'utopia magari il non credo possano dare il l'Oscar come miglior film a questo film però magari un pensiero per Robert Downey Junior come miglior attore protagonista si può fare perché comunque soprattutto per come ha portato avanti il personaggio per come è anche interpretato questo film eh non sarebbe non sarebbe una cosa assurda eh magari lanciamo un hashtag lanciamo una campagna per poter eh diciamo eh portare questa questa istanza fino fino ad Hollywood e fino all'academy diciamo va bene scherzi a parte se volete dar via un hashtag date pure eh vi ricordo che potete lasciare un commento qui sotto o un like iscrivetevi al canale numerosi se volete e potete anche seguirmi su Instagram tu trovate tutto sotto qui link pulsante per iscrivervi e per il like e post dei commenti questo è quanto ciao ci vediamo alla prossima che Spider-Man Fan Pro Room fa qualche giorno quattro giorni e dovremmo esserci ciao ciao Grazie a tutti